Riccardo Padovano, neopresidente di Confcommercio Pescara, prosegue un percorso avviato tanti anni fa, un incarico di prestigio importante che arriva in un momento storico difficilissimo, delicatissimo per il commercio, per la ristorazione nella nostra regione ma in tutto il Paese. Intanto ringrazio il mio Presidente che questa investitura fatta in questo modo mi dà a me la forza per andare avanti e seguire il programma della Presidenza Danelli. È chiaro che siamo in un momento difficile, attraversiamo un momento particolare per quanto riguarda il momento di emergenza. Noi lo sapremo affrontare, lo affronteremo con dirigenza e anche con il rispetto delle regole. Cosa sicuramente faremo nel prossimo futuro? Metteremo in piedi tutto quello che abbiamo iniziato perché un quinquennio non è sufficiente, questo dopo Danelli e il seguito di Danelli. Io sono orgoglioso di rappresentare la Confcommercio e vi faccio questa battuta. Per me fare il Presidente della Confcommercio è come fare il Sindaco della città di Pescara. Occorrono persone nuove, idee nuove da portare avanti in modo che la stessa città ne tragga un beneficio. Non è questa un'associazione che deve trarre profitto di per se stessa. Questa è un'associazione al servizio della popolazione, al servizio di una categoria che è molto ampia e per cui si identifica essa stessa con la popolazione. Lascio il testimone a Riccardo Padovano che da tanti anni è in associazione. Lascio il testimonio, come avevo detto prima, alternanza delle cariche, perché dopo aver fatto cinque anni di Vice Presidente è giusto che faccia il Presidente. Grazie.